Bulei Dia non è stato convocato per la prossima sfida contro Salernitana contro il Lecce. Il direttore sportivo Morgan De Sanctis ha annunciato alla conferenza stampa. Ieri l'attaccante ha ricevuto un'offerta dai Lupi. Ritenuto inaccettabile dal club. Ma questo episodio è partito dopo le parentesi. Queste sono le parole del DS raccolte da TMW non è stato convocato perché per gli atteggiamenti. Ha dimostrato che non è pronto a giocare a Lecce. Tutti possono dare la loro interpretazione. Tutti noi abbiamo condiviso questa scelta. Domani una battaglia ci aspetta e abbiamo bisogno di persone che sono disposti a combattere con Noi, in questo caso abbiamo notato atteggiamenti che vanno nella direzione opposta.